Musica Cari amici buongiorno, mercoledì 8 novembre iniziamo questa mattirata insieme con una nuova puntata di Mattina Sud, una serie di temi che affronteremo insieme a partire dalla riqualificazione dell'ex caserma Magrone di Bari, tutti gli aggiornamenti dal nostro corrispondente da Roma e poi l'exilva, c'è all'esame la chiusura dello stabilimento, perlomeno uno stop, ne parla la Corte Europea dei diritti dell'uomo, noi saremo collegati proprio con la Corte per dei dettagli di questa mattina. Poi ci alleggeriremo con una serie di temi, non mancherà la nostra rubrica quotidiana sui sindaci protagonisti, il nostro ospite Antonello Denuzzo, primo cittadino di Francavilla Fontana, da Lecce il Festival Europeo del Cinema, una storia particolare che abbiamo scovato per voi da Martina Franca, pensate il gelato al gusto del latte d'asina. E poi la cultura con i libri, ostuni, un'insospettabile presenza e chiuderemo al meglio con brindisi e dei vini. Ma l'inizio oggi di puntata è davvero molto speciale. Sì, buongiorno Gianmarco, grazie per la linea, un saluto ai nostri telespettatori. Come diceva il nostro Gianmarco Sanzolino, oggi abbiamo un inizio speciale, con un'intervista ad una persona speciale, ad un uomo che ha dedicato la sua vita alla legalità. Prima di presentarvelo, guardiamo insieme la scheda. Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi da agosto 2017. Ha intrapreso la carriera da magistrato nel 1983, da giovanissimo giudice istruttore del Tribunale di Voghera. Prima di approdare a Brindisi, è stato procuratore aggiunto a Lecce e già reggente, prima del passaggio di consegne tra Cataldo Motta e Leonardo Leone De Castris, nel ruolo di procuratore capo. È stato anche giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del Riesame. De Donno ha assunto l'incarico a Brindisi prendendo il posto di Marco di Napoli. Il dottor De Donno è un magistrato di livello elevato, del quale sono stati costantemente valorizzati la cume investigativo, la padronanza assoluta di ogni tecnica d'indagine, la dedizione totalizzante al servizio e alla laboriosità. Con queste parole, il CSM ha motivato a suo tempo la nomina di De Donno a procuratore capo di Brindisi. Alla descrizione di natura squisitamente professionale, vale la pena aggiungerne altre. Su un uomo dallo sguardo rassicurante, che nei suoi anni a Brindisi ha mostrato tutto il suo carisma, dote che però non lo ha mai reso umanamente distante dai professionisti con i quali lavora quotidianamente, gomito a gomito, ma anche dai cittadini. Per il procuratore De Donno, particolarmente sensibile nei confronti delle tematiche che riguardano la violenza sulle donne, sempre presente anche quando si tratta di lanciare messaggi positivi nelle scuole, agli studenti. La procura è un pronto soccorso, un luogo in cui ci si prende cura della legalità del territorio e di chi lo vive. Un posto che va sempre presidiato. Per questo lo vedrete ovunque, ma sempre di corsa, perché lui quel luogo non l'abbandona mai. Accolgo, saluto e ringrazio a nome di Antenna Sud per la sua presenza qui, il procuratore di Brindisi Antonio De Donno. Grazie. Grazie a voi, assolutamente. Procuratore. Grazie. Per la sua presenza. Abbiamo descritto bene il profilo della procuratore di Brindisi. Diciamo che mi riconosco abbastanza in quel profilo, effettivamente è così, l'ufficio di procura è un pronto soccorso, la gente viene da noi quando non sa veramente come risolvere un problema e noi dobbiamo essere pronti a dare una risposta. Questa la chiamano giustizia di prossimità, in realtà è fare bene il nostro dovere, semplicemente questo. E noi dobbiamo farlo perché la gente deve avere fiducia nell'istituzione giustizia. Il supporto di fiducia è fondamentale perché si possa operare bene dal meglio. E per farlo, e farlo bene, occorre che il cittadino abbia la certezza che da noi avrà una risposta. Qualunque sia, perché la risposta a volte può essere anche una risposta di rifiuto o di rigetto, di rendere, di accogliere le tesi di chi a noi si rivolge, perché non dobbiamo applicare naturalmente la legge. Ma il cittadino deve sapere comunque che noi valuteremo il suo caso adeguatamente, accuratamente, cercheremo di trovare la risposta più corretta possibile. Questo è un compito arduo, è un compito difficile, perché è difficile la società di oggi, è difficile il compendio normativo con cui ci misuriamo, è difficile, sono complesse le dinamiche e i meccanismi del mondo che dobbiamo in qualche modo governare. E' una difficoltà ovviamente che non riguarda solo l'istituzione giustizia, riguarda un po' tutti gli operatori che devono scendere in campo per regolare i meccanismi di questa società complessa. La giustizia però non è qualcosa di avulso e di diverso dalle altre istituzioni, è qualcosa che deve cooperare e collaborare per rendere un risultato complessivo di giustizia. E questa idea di giustizia è un'idea che secondo me è moderna e deve essere ancora esplorata al meglio. Ecco, abbiamo detto, specificato nella scheda di presentazione che ha introdotto la nostra chiacchierata, che lei è procuratore di Brindisi dall'agosto 2017. Come ha trovato quel territorio e come è cambiato nel frattempo sotto il profilo della giustizia? Diciamo che da procuratore aggiunto di legge, avendo avuto negli ultimi anni a deleganti mafia, conoscevo già bene il territorio brindisino, un territorio che si connota per caratteristiche storiche particolari e, diciamo, infiltrato da fenomeni mafiosi. Lo sappiamo, quando parliamo di infiltrato da fenomeni mafiosi, parliamo dei reati tipici delle organizzazioni mafiose, che sono reati principalmente legati oggi ai traffici di sostanze stupefacenti e anche, in qualche modo, al reinvestimento dei flussi di capitali che ne derivano. E' chiaro che Brindisi ha una sua peculiarità perché è, diciamo, elevatissimo il numero dei reati predatori. Quando parliamo di reati predatori facciamo riferimento principalmente ai furti, ma anche alle rapine, che non sono tantissime, anzi, siccome c'è stata una grande capacità, diciamo, una buona risposta investigativa, il numero delle rapine si è ridotto. I furti, specialmente in appartamento e di autovetture, rimangono elevati. Quindi, se vogliamo polarizzare un po' le caratteristiche criminali della zona, dobbiamo parlare di traffici di sostanze stupefacenti gestite dalle organizzazioni mafiose, di reati predatori, che ovviamente non sono gestiti da organizzazioni mafiosi, ma da altri tipi di organizzazioni. Poi c'è una sfera di mezzo. Quali sono questi altri tipi di organizzazioni oggi e quali sono quelli che la impensieriscono di più? Ecco, le spiego. I reati predatori naturalmente presuppongono l'organizzazione rivolta al riciclaggio, cioè al riempiego poi dei beni sottratti e quindi c'è un'attività di riciclaggio che è molto difficile da intercettare. Quello che invece, diciamo, la dinamica che ci preoccupa di più è che, in un territorio come questo, in cui la mafia comunque ha un presidio in modo sostanziale dell'attività criminosa, c'è chi spinge per entrare nei circuiti mafiosi e generalmente lo fa esercitando la violenza. Quindi assistiamo a numerosi episodi di violenza, gratuiti e pretestuosi molte volte, che potrebbero nascondere un tentativo di scalata nell'ambito delle organizzazioni criminali, di diventare il primo passo, il primo gradino per dimostrare un'affidabilità che consente in qualche modo di fare ingresso nelle organizzazioni. Nel frattempo tante cose sono cambiate, compreso il profilo del mafioso. Quello di oggi è diverso rispetto a quello del passato? Il profilo del mafioso si è trasformato perché si è adeguato naturalmente ai tempi. È chiaro che il mafioso tradizionale faceva leva, diciamo, su un potere intimidatorio e diffuso che era legato principalmente al controllo delle attività criminali. Quindi la prima fase delle attività mafiose della Sacra Corona Unita fu quella di impossessarsi del mondo criminale, quindi con attività violente, intimidatorie e con attività estorsive diffuse. Oggi hanno capito che questo meccanismo crea troppo allarme sociale e quindi una risposta elevata da parte dello Stato, perché è facilmente, diciamo, è molto visibile, quindi hanno preferito, diciamo, le organizzazioni un po' subissarsi, fare leva sui traffici di droga che sono più silenti e dedicarsi molto di più al reimpiego dei capitati che ne derivano. Io approfitto della sua presenza qui nei nostri studi per fare un'intervista a metà tra il professionale e il personale. E quindi abbiamo selezionato una serie di fotografie che io vorrei in qualche maniera commentare con lei per far conoscere meglio non solo il procuratore di Brindisi ma Antonio De Donno e i nostri telespettatori. Andiamo con la prima foto. Allora, qui un giovanissimo De Donno. Sì, beh, diciamo sono i miei vent'anni, parliamo degli anni settanta, quando il mondo era molto diverso. Vi era il terrorismo in quegli anni, vi era una forte, diciamo, spinta sociale dal basso verso la modernità, la trasformazione del paese. Un po' la mia generazione fu contagiata da queste parole d'ordine, impegno e partecipazione che poi sono state un po' il credo generazionale, no? Ancora oggi quando si fa associazionismo il target è sempre quello, associazionismo lo fanno i giovani degli anni settanta che oggi sono diventati anziani degli anni 2020. Però c'è rimasto nel DNA, quindi un mondo nuovo, un'aspettativa di grande cambiamento sociale. In realtà c'è stato, non so qui a giudicare le dinamiche che sono seguite, però fu la generazione cosiddetta della Beat Generation. Noi passeremo alla storia per quello e siamo stati tutti contagiati da quel modello. A proposito di DNA, quando lei ha capito nel corso della sua vita che avrebbe dedicato la stessa alla giustizia e alla legalità? Beh, diciamo, sono stati, diciamo che la presa d'atto della presenza di un fenomeno molto grave, di una vera e propria guerra civile alla fine degli anni settanta, inizio anni ottanta, che fu il terrorismo, per base un po' a molte delle coscienze di quegli anni, a cominciare dalla mia, non prima, non ultima, ma molti di noi pensarono che occorresse dare veramente un grande contributo per la pacificazione del paese, per la repressione di questo fenomeno criminale molto violento, che oggi tendiamo un po' a dimenticare, vi è una voglia di dimenticare le stragi, il terrorismo. Però, ecco, in quegli anni fumo molto contagiati da questa necessità di contrastare questo fenomeno di violenza diffusa. E quindi, la scelta di dedicarsi all'attività di giustizia, ho provato anche a fare, diciamo, l'ufficiale dei carabinieri, non mi è andata bene, ho vinto il concorso di magistratura, ho fatto magistrato inquirente. I suoi genitori hanno mai avuto paura di questa scelta, proprio alla luce della difficoltà, dei tempi in cui è maturata. Diciamo che quando si assume, si assumono certi ruoli in aree ad alto rischio, subentra una sorta di incoscienza che ti protegge, diciamo, anche dalle paure. Penso che si tratti di incoscienza, ma in realtà è la sicurezza di potercene in qualche modo fare, di poter gestire la situazione, di essere all'altezza, e di poter anche prevenire. E non sempre va bene, ma insomma nella generalità è questa certezza che ti anima e quindi ti dà la forza per rifiutare il concetto di paura. Vogliamo vedere insieme la prossima foto e commentarla? Andiamo a vedere. Un altro giovanissimo, Antonio De Donno, eccolo qui il procuratore. Questa foto, a che momento fa riferimento? E per quale motivo è stata scelta? Allora, questa foto rappresenta, diciamo, ha un suo particolare significato. Siamo alla fine degli anni Ottanta. Questa è, diciamo, è ripresa durante una serata conviviale organizzata dall'Associazione Imprenditori dell'Oltrepoppavese per le loro attività sociali. Ecco, siamo alla fine degli anni Ottanta, parliamo dell'Ottantotto probabilmente, e è finito il terrorismo. Cioè, questa foto si inserisce molto bene, dimostra la, diciamo, quel momento di passaggio che va dalla fine del terrorismo. Il terrorismo finisce appunto tra l'87 e l'88 quando il processo Moroter va a compimento. E, diciamo, siamo nella fase in cui la Milano da bere la voglia di godersi la vita che nasce proprio dal rifiuto delle logiche della politica militante è al culmine. È un momento di passaggio perché alla fine dell'Ottantotto, al di là della serenità che esprime quel volto in un momento, diciamo, di grazia finalmente dopo anni di terrorismo, però si approssima una fase nuova della vita del paese che è appunto Tangentopoli. Tangentopoli incombe, la nascita dei partiti nuovi, quelli che prendono il posto dei partiti di massa, segna un momento di passaggio. Quella foto è scattata in quel momento di passaggio ed esprime una serenità che poi si perderà negli anni successivi. Ragione, per cui è una foto che le sta particolarmente a cuore. Ne guarderemo altre insieme e le commenteremo, ma nella presentazione introduttiva si parlava della sua predisposizione a lanciare messaggi particolari, positivi agli studenti, perché lei nelle scuole non manca mai. molto spesso per trattare temi sensibili quali quelli del bullismo. È vero che lei è stata vittima del bullismo da piccolo? E della violenza. E della violenza di cui la violenza di genere ripeto è un epifenomeno. È chiaro che dobbiamo dare diciamo ai giovani dobbiamo dare delle emozioni, dobbiamo portarli non tanto sul filo del ragionamento ma dell'emotività a credere in un futuro che sia per loro accogliente e che sia diciamo ispirato a criteri di giustizia in senso lato un mondo giusto accogliente in cui loro si sentano parte attiva e protagonisti perché i giovani tendono al nichidismo quindi bisogna tendono ad isolarsi a rimanere chiusi in se stessi schiavi del virtuale. Allora noi cerchiamo di ricreare quel dibattito e quel dialogo che è necessario per stimolarli alla riflessione all'incontro non virtuale ma reale ritroviamo i luoghi di aggregazione e discutiamo dei grandi temi dell'attualità di oggi e questo è quello che cerco di spiegare nelle scuole non ci accontentiamo del rapporto con internet dibattiamo e discutiamo di ambiente di violenza dibattiamo di discriminazione di genere dibattiamo di risorse che si fanno esaurendo del prossimo modello di sviluppo che andremo a creare delle diversità dell'accoglienza discutiamo dei temi di oggi ma facciamolo non schierandoci e trincerandoci dietro all'anonimato di internet ecco ho avuto il piacere e l'onore di moderare sia i incontri in cui lei lei ha partecipato a tema violenza ovviamente di genere sia per quanto riguarda il bullismo provo a sbloccarle un ricordo eravamo nell'istituto Giorgi di Brindisi e si parlava di bullismo ad un certo punto io le ho dato la parola e lei intanto ha fatto un gesto ha preso il microfono ed è andato tra i ragazzi e ha iniziato ad introdurre l'argomento dicendo lo sapete che anche io sono stato vittima di bullismo io l'ho appreso in quel momento però poi ce l'ho fatta e ho dato prova a me stessa e agli altri che si può uscire da questo tunnel ci vuole raccontare che cosa ha vissuto col sorriso oramai sì sì ormai sono cose accadute tanti anni fa che io racconto un po' per sbloccare i ragazzi anche per dire che ci si può ribellare ai bulli beh sì ho subito bullismo dagli anziani in quel tempo gli anziani nelle scuole medie quindi eravamo ancora ragazzini i più anziani si sentivano in diritto di fare i bulli nei confronti dei più giovani e però accade io fui particolarmente vittima di questi attacchi di bullismo dei più anziani di quelli dell'anno precedente e però poi accade che durante l'estate io proprio per reagire a questa difficoltà che mi portavo dietro iniziai a fare sport talmente intensivo che in pochi mesi diventai un energumeno per cui quando ritornai l'anno successivo a scuola e ripresero a fare il bullismo io l'ho presi per il collo il primo che si avvicinò capì che la storia era finita e il bullismo finì ancora adesso quando mi incontra per strada mi saluta da lontano poi sappiamo da grande che fine ha fatto il procuratore chiede donno ma il bullo che fine ha fatto il bullo è rimasto una persona assolutamente normale comunque anche lui non fa più il bullo voglio dire però io lo dicevo per spiegare ai ragazzi che bisogna rafforzarsi dentro certamente non andare a fare a cazzotti col bullo però imparare a difendersi e rafforzarsi diventare forti nello spirito e nel fisico riuscire a dissociarsi anche a denunziare e chiedere l'aiuto di chi ti è vicino quando le tue forze non bastano quindi non annullarsi nella paura o nel terrore del bullo cioè non crearsi un problema psicologico ma cercare di trovare la forza per reagire mi hanno accusato di essere un violento ma io in realtà non lo sono mi sono limitato semplicemente a far capire che ero nelle condizioni di difendermi assolutamente sono un non violento detesto la violenza quindi vediamo un'altra foto andiamo avanti con i nostri contributi fotografici vediamo che cosa ci propone la regia ecco qui bellissima questa foto che cosa stava pensando in questo momento procuratore? vorrei proprio saperlo ecco questa questa foto diciamo risale alla fine degli anni del 93 siamo in una fase della vita sociale di questa terra molto particolare ecco io facevo parte della prima direzione distrettuale antimafia quella costituita a Lecce nel 1991 che dovette occuparsi della fase più cruenta dell'assalto mafioso alla società e alle istituzioni di quell'epoca anni particolarmente complessi con centinaia di omicidi di mafia con due attentati al palazzo di giustizia di Lecce che erano avvenuti nei mesi immediatamente precedenti con l'attentato al treno Lecce Stoccarda che per puro miracolo non fece una strage di studenti e di ragazzini quindi un momento particolarmente complesso e si vede lo sguardo allucinato eravamo veramente preso talmente tanto da questa esigenza di ritrovare il bandolo della matassa per reagire allo strapotere delle organizzazioni mafiose che probabilmente non riuscivo più ad esprimere quella serenità che nella foto precedente si vedeva diciamo palesemente eravamo sotto stress insomma eccola si vede proprio la foto di un allucinato ecco la foto di un allucinato con gli occhi rossi ma quello effetto della macchina fotografica l'effetto sì della macchina fotografica ecco per fortuna quei tempi sono superati spero di non essere così ancora oggi no adesso hai il volto rassicurante glielo dico a nome di tutti i cittadini del suo territorio di competenza andiamo a vedere un'altra foto vediamo un altro contributo perché poi ci sono stati immagino anche dei momenti particolarmente dolorosi nella sua vita da procuratore credo che questo sia proprio uno di quelli che contesto ha sì questa fotografia ovviamente quelle fotografie non le ho fatte io mi sono stata tutta recapitata non mi facevo fotografare quando facevo le cose ogni tanto però qualcuno le faceva e me le mandava scatti rubati ecco sì esatto scatti rubati e questo è il sopralluogo che fu fatto ai primi di luglio del 1993 se non ricordo male se non sbaglio anno ma credo di no perché a Scorrano un paese non noto per i fuochi d'artificio era esplosa una piccola fabbrica di fuochi d'artificio e c'era stato purtroppo un decesso c'era stato un morto e questa è una delle cose più tristi che possano capitare nel nostro mestiere le cose più più brutte perché poi non solo bisogna andare sul posto quando diciamo quando il sangue è caldo diciamo noi quindi nei momenti in cui l'emotività è maggiore ma poi bisogna avere il coraggio di avvisare i familiari è una parte del mestiere che francamente è veramente è delicata è brutta purtroppo diciamo io non vorrei dire che anche a questo si fa l'abitudine perché non si fa l'abitudine ma capitano sempre è sempre un dramma ogni volta purtroppo diventa routine ecco abitudine no ma è sempre un dramma vediamo l'ultima l'ultima foto che abbiamo selezionato perché ci sono altri profili di spessore ecco qui qui questa è una foto diciamo che fu pubblicata da una rivista locale fu pubblicata e rappresenta una delle prime forse la prima o la seconda una delle prime udienze del secondo maxiprocesso della Sacra Corona Unita iniziò nel giugno del 1994 era un processo per oltre 36 omicidi di mafia se non ricordo male 12 tentati omicidi sempre di mafia e anche per gli attentati che ho detto prima al Palazzo di Giustizia e al Treno Lecce Stoccarda e quindi era un processo che andava a colpire nel cuore la gota mafiosa dell'epoca quindi fu un processo pilota il primo processo per tanti omicidi di mafia gestito con il nuovo codice di procedura penale quindi con il nuovo rito e questa questa immagine intanto a sinistra c'è il procuratore capo Don Sandro Stasi con i capelli bianchi e poi ci siamo io e Cataldo Motta che discutiamo sull'interpretazione di una norma per replicare all'eccezione di un difensore non dico quale anche perché me la ricordo ma insomma credo che non interesserebbe molto era un'eccezione particolarmente diciamo calzante c'è un collega del cuore una persona con la quale ha lavorato con grande piacere grande soddisfazione guardi ho condiviso la vita con Cataldo Motta Cataldo Motta nella buona e nella cattiva sorte si dice quindi nella fase diciamo di ascesa e di impegno nella fase del deglino perché siamo ancora adesso amici pur essendo ormai anziani e lui fuori dai contesti operativi siamo sempre molto legati e molto amici abbiamo cementato questa amicizia in una storia fatta di impegno nel contrasto alla mafia allora lasciamo per un attimo l'aspetto professionale anzi no dal punto di vista professionale volevo chiedere c'è un sogno che non ha realizzato e che invece conta di realizzare ancora cosa si augura per il procuratore beh io diciamo che gli obiettivi che mi ero riproposto nella vita li ho sostanzialmente raggiunti e superati raggiunti mi rimane un cruccio ma di carattere sociale non di carattere personale non posso chiedere niente altro che un po' di salute ormai però mi rimane il cruccio che noi eravamo convinti noi del primo pull antimafia che sconfiggendo la mafia che era un laccio forte un condizionamento forte sulle attività economiche del Salento le attività economiche si sarebbero automaticamente riprese e ci sarebbe stato il boom ecco questo boom forse forse non è stato quello che ci aspettavamo c'è stata una grande ripresa economica però siamo ancora lontani dei livelli diciamo dei mercati delle grandi economie anche delle regioni del nord e quindi su questo occorre un po' interrogarsi perché noi avevamo dato troppe cose per scontate e invece c'è bisogno di altre sinergie per far crescere il territorio che forse ancora non si sono realizzate questo è il più grande cruccio la più grande soddisfazione invece? beh la più grande soddisfazione è stata quella di ribaltare i rapporti di forza tra mafia e istituzioni nella prima metà degli anni 90 quando noi sembravamo sostanzialmente perdenti questo dal punto di vista professionale passiamo ad Antonio De Donno adesso prima di salutarci qualche curiosità tipo qual è il suo piatto preferito qual è la sua canzone preferita come trascorre la giornata quando non è in pronto soccorso in procura? beh allora io leggo molto sono un grande lettore mi piace molto leggere il suo autore preferito? non c'è un autore preferito perché spazio nei vari campi della cultura amo dal romanzo al giallo sino diciamo agli studi scientifici perché mi occupo specialmente di filosofia di storia e di letteratura che sono le mie passioni sostanzialmente è quello che farò una volta che la mia grande passione sono questi tipi di studio e dedico molte ore al giorno a questo tipo di studio è il libro più bello che ha letto che consiglierebbe assolutamente a tutti di leggere io se devo sono diciamo potrei farne dirne uno io quello che mi ha colpito di più è la classe di Eric Segal è un capolavoro perché racconta perché c'è un'etica in questo in questo romanzo è lo stesso autore di Love Story voglio dire parliamo della grande letteratura americana degli anni 80 e diciamo è un romanzo che dovrebbe essere letto nelle scuole perché la classe è proprio rappresenta diciamo quattro vite diverse di quattro compagni di scuola diverse invece nelle scuole adesso leggiamo Vannacci il mondo al contrario sì questo è sul il mio piatto preferito diciamo diciamo che non glissa su Vannacci il procuratore sono un po' manciatore non vorrei offendere nessun piatto invece la mia canzone preferita è La guerra di Piero La guerra di Piero di Fabrizio De Andrè che suono alla chitarra mi diletto a suonarla perché è una canzone che esprime tutti i sentimenti di chi deve affrontare un nemico e sa che può perdere la vita è una canzone naturalmente diciamo che contro la violenza contro ogni forma di violenza specie la violenza bellica e forse oggi sarebbe molto di attualità allora io non sapevo che lei suonasse anche la chitarra altrimenti avrei fatto la faccia tosta e le avrei chiesto di venire dei nostri studi con lo strumento per concludere diciamo con un pezzo musicale allora allora io ringrazio il procuratore Antonio De Donno ringrazio l'uomo per essersi aperto oggi a noi di Antenna Sud e ai nostri telespettatori le auguriamo ovviamente una buona giornata le auguriamo buon lavoro nella certezza che tornerà a trovarci grazie al procuratore di Brindisi Antonio De Donno andiamo invece a fare adesso un salto a Roma per parlare però di questioni che riguardano il territorio di Bari sentiamo un elaborato del nostro Francesco Manigrasso ci vediamo fra poco sì buongiorno ben trovati da Roma e allora in primo piano l'ex caserma Magrone da ex struttura militare a parco dell'innovazione con spazi destinati al Politecnico di Bari aree verdi aperte a tutta la cittadinanza e quanto prevede il progetto di riqualificazione appunto dell'ex caserma Magrone a Bari destinata a diventare un vero e proprio campus universitario con aule e laboratori 150 alloggi per gli studenti ma anche spazi verdi e impianti sportivi a disposizione dell'intera collettività l'intesa istituzionale sul riutilizzo del complesso immobiliare dello Stato è stata sottoscritta proprio ieri a Roma alla presenza del Ministro dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dal Sindaco di Bari Antonio De Caro dal Direttore dell'Agenzia del De Mano Alessandro Dalverme dal Rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino e dal Presidente dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia Adisu Alessandro Cataldo sentiamo a tal proposito l'intervista al Rettore del Politecnico di Bari in questi ultimi anni il Politecnico di Bari ha segnato una serie di primati i numeri degli studenti sono aumentati continuiamo a fare anno dopo anno record di matricolati i docenti sono aumentati del 40% negli ultimi 4 anni il tasso di occupazione del Politecnico del più alto in Italia ormai cominciamo a stare stretti negli spazi che già abbiamo e vediamo con questo protocollo con l'acquisizione di una parte della Caserma Magrone la possibilità di avere nuovi laboratori collocare le attività finanziate nell'ambito del PNRR noi siamo capofila nazionale dei progetti sull'energia finanziati dal Ministro dell'Università abbiamo progetti in ambito di mobilità sull'idrogeno sull'axilella insieme al CNR tutto questo avrà casa nella Caserma Magrone un parco dell'innovazione che sarà innanzitutto un parco restituito dalla città con attrezzature sportive luoghi di aggregazioni residenze universitarie e tutto questo attrarrà giovani talenti ma anche imprese che sempre in un numero maggiore vedono nella Puglia in Bari nel Politecnico un'opportunità per la loro crescita ma anche per la crescita della nostra regione il complesso immobiliare dell'ex Caserma Magrone si trova nel quartiere San Pasquale si estende pensate per circa 100.000 metri quadrati al suo interno ospita appunto 30 edifici con destinazioni differenti tra capannone adibiti a magazzini edifici destinati ad alloggi anche uffici ma non solo percorsi carrabili e pedonali ma soprattutto davvero tantissime aiuole si è detto più volte in conferenza stampa di presentazione sentiamo il presidente della regione Puglia Michele Emiliano quella più importante è per dare alle università baresi un luogo dove effettuare attività di ricerca quella altrettanto importante è quella di dare alloggio a moltissimi studenti nel momento in cui la carenza di posti letto è sentitissima e poi c'è un impatto di riqualificazione di un quartiere della città di Bari in divenire molto rilevante questi elementi hanno spinto a questo accordo tra più soggetti tra il ministro Bernini della università la città di Bari poi tecnico dell'università di Bari e tutto questo rappresenta per noi motivo di grandissimo orgoglio di grandissima soddisfazione per il sindaco di Bari Antonio De Caro grazie alla collaborazione con l'agenzia del demano e le altre istituzioni coinvolte potremo restituire ai baresi dice un altro luogo chiuso e inutilizzato che si aprirà alla città offrendo ai cittadini e agli studenti chiaramente una grande area verde pubblica l'utilizzo dello spazio pubblico in un'ottica sostenibile è stato un asset strategico ricordato il sindaco di Bari che ha contraddistinto gli ultimi dieci anni di amministrazione e di sviluppo urbano sentiamo allora proprio il sindaco di Bari Antonio De Caro e il ministro Bernini restituire la città ai cittadini renderla fruibile dare nuove funzioni a dei vuoti che sono considerati dei vuoti urbanistici l'abbiamo fatto in questi anni con l'ex caserma Rossani l'abbiamo fatto con l'ex manifattore di tabacchi con l'ex caserme Capozze Milano che sono diventati il parco della giustizia il parco della cultura all'interno della Rossani questo diventa il parco della innovazione una grande area verde parliamo di 100.000 metri quadri che sarà destinata a un campus universitario con laboratori aule di ricerca aule per la didattica attrezzature sportive per gli studenti un'area per uno studentato gli alloggi per gli studenti gli studenti contamineranno la città e la città avrà la possibilità di contaminare gli studenti e questo grazie a un lavoro di sinergia tra le diverse istituzioni è un passaggio è un elemento di un percorso che abbiamo già avviato e che continua ad avvicinarsi alla soluzione ovviamente qui si tratta di un campus molto sui generis molto innovativo rigenerativo sostenibile inclusivo è un po' un esempio di quello che dovrebbero essere anche altri campus in giro per l'Italia soprattutto al sud dove credo sia uno dei pochissimi esempi di campus di nuova generazione da Roma non ci sono ulteriori aggiornamenti come sempre vi ringrazio se non ci sono domande vi restituisco la linea vi auguro un buon inizio di giornata grazie grazie Francesco allora Anna ci ritroviamo in puntato dopo questo approfondimento della legalità che è stato veramente affascinante dal punto di vista umano oltre che professionale e poi bella anche questa notizia che ci porta il nostro Francesco Manigrasso corrispondente da Roma perché ieri Anna lo sai abbiamo parlato dell'ex struttura militare di Taranto anche a Bari finalmente dopo anni di inutilizzo si porta a nuova vita l'ex caserma Magrone lo avete ascoltato un parco dell'innovazione con aule laboratori residenze universitari e aree verdi tra poco torniamo è sempre un piacere quando contenitori di questo tipo vengono restituiti a nuova vita ovviamente a beneficio di quelle che sono le comunità di pertinenza tra poco torniamo con altri argomenti abbiamo già un nuovo ospite nei nostri studi salutiamo subito Antonello Denuzzo sindaco di Francavilla Fontana che sarà protagonista sindaco della nostra rubrica appunto dei sindaci protagonisti ben trovato molte grazie per il vostro invito e buongiorno a tutti i telespettatori buongiorno Anna grazie sindaco ci fermiamo per un attimo e ci rivediamo fra poco siamo in diretta con la seconda parte di Mattina Sud tra poco il sindaco Denuzzo ma intanto siamo pronti a collegarci con Lecce Agrogepacioc questa iniziativa che è veramente di carattere internazionale Anna un salone con il meglio del gusto io ho voluto scrivere in grafica l'expo della squisitezza perché c'è di tutto e di più e soprattutto la cioccolata che io amo all'infinitesimo e allora vedo pronta Maria Teresa Carrozzo non è sporca di cioccolato però noi vogliamo sapere in apertura di collegamento se hai già assaggiato qualcosa Maria Teresa ma lei è attenta alla linea è vero fisicata proprio come si dice in gergo buongiorno buongiorno colleghi buongiorno buongiorno ai nostri telespettatori io ancora non ho degustato nulla perché come sapete a me piace la condivisione quindi aspetto voi e dentro oggi dovete venire qui a Lecce per gustare non solo cioccolata non banalizziamo Gianmarco ma tante no è la mia preferita però per questo ho citato solo quella peribatezze salentine no c'è molto altro è chiaro sì sì vai vai Maria Teresa Gianmarco qui c'è c'è veramente da morire da star male per chi come me è golosa ma deve a me privarsi delle cose più belle e al mio fianco abbiamo il presidente presidente allora ci dica presidente innanzitutto di cosa lo dica le nostre spettatori presidente di associazione pasticceri salentini di confartigianato imprese Lecce sono il coordinatore del forum pasticceria la fiera si divide in diversi forum un forum appunto la pasticceria dove tra qualche minuto partirà l'ultimo concorso di quest'anno che è il concorso a scalone dove si produrranno dei pasticciotti riservati esclusivamente ai professionisti infatti state vedendo uno a fianco all'altro pronti per il loro via allora non svegliamo Matteo Matteo segui me per favore Matteo seguiamo segui le mie indicazioni allora non svegliamo tutti i nostri tre spettatori lasciamogli anche il piacere della scoperta questa è la diciottesima edizione di Agro Cepascioc una manifestazione attesissima a livello regionale che diventa maggiorenne innanzitutto qual è stato dal punto di vista dolciario la novità di quest'anno la novità di quest'anno è stato che il primo concorso che si svolge la domenica è stato intitolato a un maestro ad Antonio Catamo che purtroppo non c'è più il primo concorso è appunto Giovani talenti un concorso riservato agli under 25 quest'anno altissima affluenza e altissima professionalità dei ragazzi il lunedì c'è un altro concorso che è il concorso di gelateria indetto da MEC3 il martedì quindi ieri c'è stato l'ospite quest'anno abbiamo avuto un grande personalità Omar Busi e oggi appunto c'è il concorso di sul pasticciotto che è Maria Teresa Scalone l'inventore il creatore del pasticciotto che è di Galatina Presidente andiamo a vedere come preparano i pasticciotti dimmi Gianmarco ecco oltretutto so che quest'anno la fiera ha avuto un riconoscimento importante dalla regione Puglia perché è stata riconosciuta come fiera a carattere internazionale tra una squisitezza e l'altra poi vorrei commentare con il presidente questo riconoscimento perché in effetti segna un cambiamento significativo dal punto di vista istituzionale ma non solo un cambiamento importante è stato molto importante anche perché con l'internalizzazione della fiera si sono avvicinate anche espositori a livello appunto internazionale non più espositori locali o solo italiani quanti espositori quest'anno anche espositori internazionali l'altro giorno ho visto c'era una una ventina di persone dell'Oriente forse erano giapponesi che stavano appunto visionando la fiera e per questo è solo parte di orgoglio per noi che a Lecce riusciamo appunto a tirare persone dall'altra parte del mondo tra l'altro Gianmarco quest'anno non soltanto espositori ovviamente di quella che è la parte no gastronomica dolciaria ma anche tantissime altre attività tipo anche espositori di birra redoper esterni quindi arricchite ma siccome io so che tu ed Anna amate cucinare nel tempo libero io adesso vi faccio vedere qualche particolarità questi che io chiamo posso signora questi che io chiamo ovviamente pirottini in realtà si chiamano sono delle forme da pasticciotto sono le barchette le famose barchette per fare i pasticciotti noi ragazze bambine ex bambine salentine abbiamo passato la nostra infanzia con queste le facevano le nostre nonne ma tu i pasticciotti li sai fare Maria Teresa non si trovano più non si trovano più si comprano in pasticciria direttamente i pasticciotti ormai Gianmarco dimmi li sai fare i pasticciotti perché se così vieni subito in studio allestiamo la cucina come qualche giorno fa e li facciamo vedere dal vivo alla faccia di chi dice che quelle giornaliste impegnate poi in cucina non sono brave sconfiggiamo questa falsità Gianmarco io sono bravissima nella cucina so scegliere la cucina da sporto come nessuno a livello regionale io mi sono bravissima vero signora anche lei no io la faccio a casa però condivido il suo pensiero fa benissimo e lei fa pasticciotti? sì anche sì complimenti io scelgo dove comprare allora colleghi adesso ci facciamo dare qualche piccola particolarità dal nostro presidente sì qual è il segreto del pasticciotto ideale strutto o burro? allora il pasticciotto è fatto esclusivamente con lo strutto non esiste il pasticciotto con il burro anche perché è stato registrato come pat come materia grassa lo strutto c'è anche chi lo produce con il burro o misto burro e strutto ma non può essere chiamato pasticciotto come non può essere chiamato pasticciotto tutto quello che non è alla crema pasticcera per dirti cioccolato pistacchio non è pasticciotto ma è un dolce che si assomiglia a un pasticciotto ma il pasticciotto originale registrato come pat è appunto frolla con lo strutto e crema pasticciera Maria Teresa classica tradizionale se si vuole arricchire un po' di limone ma non più ecco dimmi Gianmarco tra poco riprendiamo la linea abbiamo un ospite da intervistare in studio però prima di chiudere telegraficamente la differenza tra pasticciotto e fruttone a beneficio di chi ci ascolta chiariamolo una volta per tutti qual è Gianmarco noi qua siamo nel Salento tu c'hai una domanda dal brindisino ma noi Salentini la differenza tra pasticciotto e fruttone è proprio abissale allora Gianmarco la forma è uguale sia del pasticciotto che del fruttone è sempre identica la base è uguale sempre pasta frolla cambia il ripieno il pasticciotto è con la crema pasticcera e poi chiuso di nuovo con la pasta frolla è cotto il fruttone invece è con la pasta di mandorla è poi glassato prima con una glassa di zucchero cacao oggi con del cioccolato puro che buono io non faccio distinzioni si associano anche le personalità e le persone ai dolci quindi tu che ti senti uomo pasticciotto uomo fruttone ma io posso entrambe io non faccio distinzioni mi piacciono entrambi scusate io non mi nascondo altro che linea Maria Teresa poi in palestra bruciamo non c'è problema grazie se non hai altro riprendiamo la linea ci sta invece presidente secondo lei io sono più donna fruttone o donna pasticciotto e dalla donna pasticciotto qui del Salento ripasso la linea in studio non potremo richiamarti la linea Gianmarco perché noi abbiamo altri appuntamenti da seguire nel Salento quindi saluto te e i nostri tre spettatori e grazie presidente grazie a voi e buona giornata a tutti grazie a entrambi buon lavoro Maria Teresa grazie lei fa Anna la pasticciotta senza zucchero perché chiaramente con la linea bisogna stare attenti scusatemi una parentesi dolce sindaco poi magari lo facciamo anche assaggiare qualche pasticciotto leccese Anna a te perché abbiamo da mettere sotto torchio il sindaco Denuzio protagonista per le cose belle ma anche per le cose brutte come va Francavilla Fontana? a questo punto chiediamo anche al sindaco se preferisce il fruttone o il pasticciotto visto che abbiamo iniziato in questo modo così leggero la nostra chiacchierata preferisco il pasticciotto della sua disponibilità questa mattina da dove vogliamo iniziare tante cose nel comune di Francavilla Fontana a partire dalle deleghe le sue che sono cambiate perché? ma io nello scorso mandato ho tenuto per me con il consenso di chi ha condiviso quella con il consenso delle persone con le quali ho condiviso quella prima esperienza politico-amministrativa le deleghe ai lavori pubblici per un lungo periodo che ha coinciso quasi con la intera durata del mandato al personale e alla legalità che non è una parola vuota è una parola che direi che va riempita di contenuti tutti i giorni anche noi ci crediamo ragione per cui questa mattina abbiamo voluto fare una lunga chiacchierata con il procuratore De Donno ho seguito con grande attenzione perché è una persona che ha una capacità straordinaria cioè di unire una profondità di pensiero non comune con la leggerezza che si percepisce ascoltandolo cioè è molto interessante lo dico senza alcuna piageria davvero detto questo torniamo sulle cose che si fanno a Francavilla dicevo avevo la delega a queste deleghe consigliari le avevo tenute per me ai lavori pubblici al personale pensando che i dipendenti comunali quale che sia il loro inquadramento giuridico debbano avere diciamo a portata di mano il loro interlocutore principale quindi il vertice dell'amministrazione comunale e questa delega alla legalità che ho voluto conservare e siccome come ogni essere umano anche io ho bisogno di motivazioni per tenermi vivo diciamo così ho voluto provare in questo secondo mandato a occuparmi più da vicino attraverso queste deleghe consigliari della cultura e della pubblica istruzione o per meglio dire di quello che un comune può fare per il mondo cittadino della scuola per l'istruzione naturalmente senza occuparmi di didattica senza pensare di occuparmi cosa stai facendo per il mondo della scuola diciamo che tengo insieme queste deleghe provando a variegare l'offerta culturale della città in modo che possano trovare la loro soddisfazione anche gli studenti e le studentesse di ogni ordine e grado di Francavilla ci abbiamo pensato durante l'estate che è un periodo in cui non si fanno lezioni ma ormai tante persone per tante ragioni che hanno a che fare anche con il costo della vita si trattengono in città per cui abbiamo voluto investire forse è la prima volta che accadeva con questa decisione con questa determinazione sulla estate cittadina e insomma mi pare che la città sia stata abbastanza vissuta poi l'estate ha avuto una coda lunga perché abbiamo voluto destagionalizzare il flusso di anche il flusso di visitatori appunto della nostra città intanto abbiamo voluto stagionalizzarla cioè abbiamo voluto ritagliarci un posto nell'estate che è un periodo che Francavilla un po' soffre come tutti i comuni dell'entroterra non avendo il mare e la gente si riversa sulle spiagge soprattutto qualche suo collega avrebbe provveduto a portare anche il mare non mi ricordo se l'ho promesso non lo escludo non faceva parte del programma elettorale non ce l'ho fatta a dire questo non ce l'ho fatta proprio però abbiamo voluto dare anche una coda all'estate come si dice per esempio settimana scorsa abbiamo ospitato per la prima volta nella nostra città un format non so se vi è capitato ma sono andati in onda anche i servizi di questa emittente che si chiamava Cucine 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 inizia di Antonio Stornaiolo e un'altra sera una chiacchierata con Patrizio Liva che è stato un mito dello sport per tante generazioni e poi questo circuito di stand questo piccolo itinerario di stand enogastronomici nel nostro centro storico che è un centro storico lo dico perché sono il sindaco evidentemente ma ci credo che va valorizzato e va mostrato perché ha dei valori assoluti dal punto di vista storico architettonico e poi siccome lo sapete già non perché le cose che io faccio io abbiano qualche rilevanza ma non voglio dire questo ma lo sapete già essendo io sindaco al secondo mandato siccome sono un po' fissato con la pedonalizzazione e con la convivenza democratica negli spazi pubblici anche un po' con la mobilità sostenibile fortunatamente delle persone non ci è bastata via Roma abbiamo pedonalizzato piazza Vittorio Emanuele II che noi cittadini chiamiamo più comodamente piazza monumento per via della presenza di una stela e di un monumento ai caduti l'abbiamo pedonalizzata resa una ZTL che in questo momento ha un orario integrale diciamo così H24 e la piazza ha ospitato questa manifestazione per una volta si è vista non con una fila di auto incolonnate che non si sa bene dove vadano non voglio demonizzare l'uso dell'auto naturalmente però qualche volta insomma ne facciamo un uso disinvolto tutti ma si è vista appunto questa piazza piena di gente che è tornata a socializzare Sindaco nel giorno dei morti quando ha visto il servizio di Michele Iurlaro sul cimitero ci dice così senza filtro che cosa ha pensato ho pensato a Michele ho pensato molto intensamente ho pensato che fa bene a rilevare queste criticità un attimo che credo abbiamo il servizio lo possiamo mandare in onda intanto chiedo alla regia ha pensato molto intensamente a Michele Iurlaro però ma mi capita di pensare molto intensamente a Michele Iurlaro come a tutti i miei concittadini perché il cuore di un sindaco è per tutti si è ripreso in finale in chiusura di concetto andiamo a vedere il servizio e poi capiamo quali sono i risvolti i cavi elettrici che escono dal terreno il materiale di risulta e le sterpaglie che con i loculi dividono gli spazi il solito magazzino dove ma non è una novità vecchie bare e vari rifiuti vengono accatastati e nascosti al pubblico in attesa di giorni migliori in linea di massima quel che non va nel cimitero di Francavilla Fontana è difficile da notare perché in generale il Camposanto si è presentato pulito e ordinato nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti in generale appunto poi allungando lo sguardo è possibile cogliere le criticità un lampione rotto un cassonetto spaccato e un altro troppo pieno alcune nuove aree non sembrano essere state adeguate al culto dei morti mentre un po' di sporcizia macchia quel posto silenzioso che vive di lacrime e di ricordi di preghiere continue e di rimpianti nel cimitero a Francavilla Fontana avrei pagato per vedere l'espressione del sindaco Denuzzo alla vista di questo servizio voi avete replicato mi sembra c'era da precisare alcune cose e lo ha fatto l'assessore ai servizi cimiteriali che analisa toma che è in giunta leggo concluse le operazioni di gara nelle scorse settimane si è insediata ufficialmente la ditta che si è giudicata alla gestione triennale dei servizi cimiteriali e delle lampade votive il passaggio di consegni è avvenuto a pochi giorni dalla ricorrenza della commemorazione di tutti i defunti in un periodo dell'anno in cui il cimiterio è frequentato da flussi importanti di persone insomma in che modo sarà possibile intervenire sindaco? ma intanto mi hai chiesto che cosa io abbia pensato alla vista del servizio ho pensato che fa bene Michele fate bene voi a rilevare queste criticità perché può anche darsi il caso che l'amministrazione comunale che deve presidiare nel caso di Francavilla un territorio che non è solo quello che coincide con il cimiterio grande 180 km quadrati insomma l'amministrazione non riesca a posare il suo sguardo proprio ogni istante dappertutto rilevate queste criticità abbiamo chiesto immediatamente delle spiegazioni sia agli uffici che seguono il cimitero gli uffici competenti per materia sia la ditta che è vero quello che ha precisato l'assessore nel suo comunicato stampa nella nota che ha diffuso la ditta che si è appena insediata perché si è conclusa abbiamo espletato da poco la gara per affidare la gestione del cimitero c'è un nuovo soggetto terzo diverso dal comune che si è insediato e che evidentemente sconta questo periodo di assestamento anche il cimitero è grande questa è una considerazione che faccio non per evadere la domanda ma anzi al contrario per fornirvi un dato di realtà la città è grande ma anche il cimitero quello di Francavilla è un cimitero semi monumentale non abbiamo questo riconoscimento però insomma chi ha avuto modo di visitarlo chiunque abbia modo di visitarlo se ne accorge sono veri e propri monumenti che vanno preservati cioè questa è una condizione quella del cimitero di Francavilla che ci responsabilizza ulteriormente ripeto le informazioni che ci sono state date sono state nel senso che il materiale di risulta era stato accatastato prima di venire smaltito come con le modalità con le quali deve essere smaltito in altri punti stavano per intervenire abbiamo chiesto un'accelerata e continueremo a monitorare mi spiace se ha risentito di qualche disagio l'utenza del cimitero però va anche precisato un'ultima cosa cioè che ci sono degli spazi all'interno del cimitero che sono di proprietà dei privati diciamo sui quali interveniamo con un poco di fatica perché l'adempimento che dobbiamo curare per primo è quello di sollecitare appunto di ordinare ai privati di intervenire per prendersene cura ecco tra poco andiamo in pubblicità e avremo tanti altri argomenti vi anticipo già che ci collegheremo con Pognano Amare dove si trova il nostro Flavio Insalata perché parte questa mattina il cammino per volare vi abbiamo dato qualche anticipazione qualche giorno fa abbiamo anche Davide Cucinelli Davide Cucinelli abbiamo tantissime cose regia se facciamo il tempo però prima di andare in pausa abbiamo un altro servizio di Michele Giurlaro brevissimo che commentiamo con il sindaco in chiusura che riguarda l'aspetto più squisitamente politico guardate l'amore c'è anche se non sempre si vede dopo un primo periodo di assestamento il matrimonio sancito dal voto popolare prima ancora che da quella stretta di mano diventata iconica andrà a gonfie vele il presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno non ha dubbi sul fatto che le basi politiche che reggono l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Denuzzo siano solide e col tempo superato una fase di studio tra forze e movimenti diversi andrà ancora meglio beh diciamo dopo come tutti i matrimoni insomma la prima fase è una fase di assestamento devo dire però insomma diciamo che la squadra la giunta insomma sta lavorando è chiaro che c'erano dei progetti già in cantiere e si sta cercando anche di di trovare anche ecco quel consenso anche da parte di quelle forze che attualmente in quel momento non erano presenti diciamo in amministrazione comunale però diciamo nel contesto insomma si sta lavorando questa è la cosa più importante tenuto conto che c'è stato il primo periodo di città estate e adesso siamo entrati diciamo nella discussione sul bilancio ecco già sul bilancio si vedrà insomma ci sono delle modifiche rispetto anche quelle una inversione di rotta a quella che comunque era la vecchia amministrazione si sta dando qualche cosa di nuovo e se l'amore non è bello se non è il litigarello lo si capirà davvero già tra qualche giorno quando il voto per le elezioni provinciali e gli indizi portano tutti in direzione PD metterà alla prova una maggioranza in cerca di conferme e insomma sindaco lo porto su un piatto d'argento Maurizio Bruno è vero? è amore vero? le parole diciamo che sono parole in prospettiva cioè nella prospettiva che questa maggioranza vada avanti continui a lavorare faccia magari passando anche per qualche errore tutti abbiamo i nostri dimmi faccio delle cose buone per la città io ci credo moltissimo in questo accorso in quella stretta di mano io ho investito tutto il lavoro che avevamo svolto in precedenza una stretta di mano che vale oro e che vale il futuro della città degli imperiali ma è valsa intanto una vittoria al primo turno delle elezioni amministrative vittoria della quale non voglio farmi vanto ma voglio dire che è una stretta di mano sulla quale hanno investito la loro fiducia anche i nostri concittadini il risultato c'è stato adesso dobbiamo tenere fede a quell'impegno è vero che c'è stato anche un periodo di assestamento la maggioranza ha cambiato la sua composizione perché adesso ci sono stabilmente al suo interno il Partito Democratico e anche il Movimento 5 Stelle che sono due forze politiche strutturate che hanno delle dinamiche diverse da quelle del civismo puro però io registro questo e cioè che ciascuno fa uno sforzo di comprensione verso gli altri poi la politica attiva è questa cosa qui cioè è uno sforzo di mediazione continuo avendo però come bussola questo è fondamentale l'interesse collettivo della comunità che rappresentiamo grazie ad Antonello Denuzzo sindaco di Francavilla Fontana facciamo una pausa ci rivediamo per l'ultima parte di Mattina Sud a dopo grazie eccoci qui ultima parte di Mattina Sud dobbiamo andare da Flavio oggi come sempre super spediti sì come al solito ci piace collegarci con i territori Polignano a mare Flavio Insalata ci racconta l'avvio di questo progetto che l'abbiamo già presentato ampiamente ve lo riassumo una raccolta fondi inusuali che unisce i due mari della Puglia per realizzare una foresteria gratuita una casa un punto d'appoggio per i parenti dei malati oncologici in cura all'ospedale Moscati di Taranto Flavio buongiorno ciao Flavio eccolo qui buongiorno Gianmarco buongiorno a tutti i nostri telespettatori partirà questa mattina da Polignano un cammino di 136 km e 5 giorni a sostegno dei malati oncologici un cammino per raccogliere i fondi per realizzare una foresteria al Moscati di Taranto un cammino che è stato tra virgolette ideato e sostenuto dalla rotta dei due mari o qui accanto a me Elio di Roma saranno 5 giorni intensi saranno 5 giorni pieni di sacrificio ma 5 giorni per uno scopo nobile Elio assolutamente abbiamo preso al volo l'iniziativa ci abbiamo creduto dal primo momento e noi siamo qui ad offrire il sostegno della nostra associazione ma soprattutto ad offrire tutto il nostro impegno nella direzione dell'associazione perché ci sembrava giusto voglio dire partecipare offriremo chiaramente un sostegno di tipo logistico strutturale insieme alle nostre strutture ricettive che hanno offerto la disponibilità per l'alloggio dei nostri camminatori e quindi niente siamo qui a dire che il sassolino che oggi raccoglieranno alla mammonachile questa volta avrà un significato importante lo trasporteranno sulle loro spalle con il peso dei loro problemi delle loro situazioni personali e lo lanceranno nello Ionio e credo che il momento in cui lanceranno il sassolino nello Ionio si aprirà un nuovo capitolo siamo qui per questo ci crediamo si parte dal Mar Adriatico di Polignano si arriva nel Mar Ionio di Taranto Mirco Di Bello da dove nasce l'idea di questo cammino quando avete ideato questo cammino io ho affrontato il cammino di Santiago e lungo quel percorso che è un percorso prettamente spirituale ho pensato a qualcosa per il territorio qualcosa che potesse coniugare l'aspetto prettamente turistico e anche spirituale come appunto il cammino a un tema sociale quindi qualcosa che potesse dare un riscontro un piccolo appunto sassolino in un mare così complicato quello della malattia e quindi malati oncologici di qui data la mia partecipazione a più iniziative di ali per volare l'idea di realizzare un cammino di chiamiamo beneficenza di solidarietà per poter appunto far diventare o almeno provare a far diventare quello che è un progetto qualcosa di più di più vero di più reale una foresteria l'associazione Ali per volare Donato Marra invito la presidente Stefania Terlizzi qui accanto a me vuole essere vicino ai malati oncologici e ai genitori dei malati oncologici per alleviare in un certo senso la sofferenza questo cammino anche lo scopo di raccogliere fondi per rendere un po' meno difficile la malattia Ebbene sì noi come associazione che è stata costituita il 22 dicembre dell'anno scorso abbiamo proprio come progetto principale quello di realizzare una foresteria per i familiari dei malati oncologici e gli stessi vicino al Moscati visse considerato la difficile la difficile vita che ha dovuto condurre negli ultimi mesi mio figlio e le esperienze vissute durante il suo calvario abbiamo cercato di capire cosa potevamo fare per migliorare quantomeno la vita dei familiari oncologici e con la foresteria è l'unica soluzione dove noi non chiederemo nessun genere di compenso per essere sostenuti dall'associazione e dalla foresteria quindi saranno ospitati in questa foresteria in maniera completamente gratuita e loro si dovrebbero e si dovranno sentire come se fossero a casa a casa con il proprio accanto al proprio malato al proprio paziente in maniera tale che la famiglia e lo dico e continuerò a gridarlo possa essere la medicina migliore per aiutare ad affrontare una situazione veramente drastica per il malato stesso l'associazione è nata a dicembre di quest'anno quali sono stati i primi passi i primi passi con gli aiuti verso le prime famiglie sul territorio in maniera più piccola abbiamo sostenuto delle famiglie a livello economico abbiamo sostenuto delle famiglie con aiuti di traversi ultime degenze dove purtroppo si trovano in pausa con l'aiuto da parte dell'ant noi abbiamo cercato di occupare quella settimana quei 15 giorni fornendo loro traverse medicine sostegno psicologico quanto potevamo fare per non farli sentire nell'oblio e persi perché purtroppo è inutile prendersi in giro la famiglia si sente persa non sa dove andare quindi anche con i contatti a livello stretto non regime con i medici quindi un continuo contatto con i medici del Moscati per far sì che le famiglie possano essere e continuare ad essere viste servite sotto ogni punto di vista non lasciandoli abbandonati questo è si parte da Polignano si parte da una perla del mar Adriatico per arrivare poi a Taranto sul mar Ionio abbiamo qui anche l'assessore della cultura del comune di Polignano Priscila Raguso oltre che i camminatori partite in quattro arrivate in quanti allora partiamo in quattro poi durante il cammino comunque si uniranno altre persone già ci hanno contattato perché vogliono seguire questo cammino con noi fare questa esperienza con noi uniti anche per aiutare l'associazione a realizzare questa foresteria molto importante l'ultimo tratto a Taranto dove noi arriveremo e cerchiamo quantomeno di convogliare quanta più gente possibile lì con l'incontro di chiunque voglia partecipare all'ultimo tratto unirsi a noi e fare rumore quanto più possibile perché a Taranto nella regione Puglia una foresteria non esiste esiste sopra esiste in altre parti della nazione ma qui in Puglia a Taranto nel preciso dove serve dove Taranto è stata dichiarata come la città più colpita a livello oncologico non esiste una foresteria che può aiutare le famiglie dei malati oncologici io do tant'è vero con noi ci sarà durante il cammino anche Carla Lucarelli la mamma di Giorgio che ha perso pure lei il figlio a causa del tumore insieme a noi si uniranno altre persone che hanno avuto lo stesso lo stesso tragico evento in famiglia Assessore il comune di Polignano è da sempre vicino a queste tematiche da qui la partenza simbolica di questo cammino per voi un onore o un onere assolutamente sì direi innanzitutto che per me è stato un onore poter ascoltare dal vivo in maniera anche intima le storie di queste persone che non capita spesso di ascoltare sono sicuramente storie forti e credo che la politica debba far sentire in questo senso la sua presenza chiaramente passare poi dalle parole ai fatti è sempre complicato e non è una cosa assolutamente scontata tuttavia ritengo che in questo senso la rotta dei due mari può servire perché non è soltanto un percorso fisico visivo è un qualcosa di spirituale è il dolore che accompagna il dolore che viene condiviso ed è un faro su tematiche che probabilmente dobbiamo iniziare ad affrontare più di petto effettivamente l'esperienza di chi ha vissuto in prima persona appunto un tumore su persone a cui si vuole bene quindi della famiglia che ha perso una persona cara ci può evidenziare quante mancanze magari abbiamo ancora e quanto possiamo fare quanto si deve fare ritengo che tutto quello appunto che viene chiesto non è soltanto diciamo solidarietà ma appunto sono delle donazioni insieme insomma ognuno con le proprie possibilità ognuno nel proprio piccolo può fare può fare qualcosa quindi chiaramente dobbiamo cercare di mettere in luce questo questa possibilità e riuscire a creare delle possibilità che riescano a dare dignità come dicevamo prima ai malati oncologici per garantirgli appunto di avere la propria famiglia vicino anche e soprattutto ecco nei momenti nei momenti più difficili nei momenti peggiori grazie all'assessore Raguso grazie ai quattro camminatori all'associazione rotta dei due mari noi non rubiamo più tempo si parte fra poco dal monumento dedicato a Domenico Modugno poi Castellana Grotte albero bello Martina Crispiano e si arriva tra cinque giorni a Taranto 136 chilometri è proprio il caso di dirlo buon cammino e buona giornata grazie 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 Flavio sosteniamo questo progetto sosteniamo Stefania Terlizzi e tutto il suo staff noi come Atenna Sud voglio ribadirlo siamo partner di questa iniziativa davvero incommiabile adesso andiamo a parlare di cultura con un bel libro sì andiamo a parlare di cultura con un ospite graditissimo che è qui con noi questa mattina il generale Luigi Del Vecchio una vita nella guardia di finanza e poi uno scrittore abbiamo qui il suo lavoro Ostuni un'insospettabile presenza intanto grazie per aver accettato il nostro invito e poi parliamo del suo elaborato dove è contestualizzato si capisce nella città bianca ma questa insospettabile presenza allora grazie grazie della vostra ospitalità sì Ostuni un'insospettabile presenza è il mio primo thriller lei non è di Ostuni non è pugliese io sono napoletano napoletano ma felicemente ormai ostunese di adozione perché mi sono trasferito nella città bianca un anno e mezzo fa e dopo aver cullato per tanti anni non so neanche quanti il desiderio di venire a vivere ad Ostuni ci sono riuscito nel momento in cui mi sono congedrato dalla guardia di finanza dopo 40 anni e ho raggiunto questo grande desiderio quello di venire a vivere ad Ostuni ora sono un cittadino ostunese a tutti gli effetti è bella anche questa testimonianza trovi di Anna le fiamme gialle le fiamme gialle ce le ha sempre appuntate alla giacca e anche ovviamente nel titolo il colore perché però perché questo è un giallo poi sostanzialmente sì è un giallo è un giallo ambientato appunto ad Ostuni nel Natale del 2017 è il classico thriller il classico thriller dove chi il lettore si aspetta ovviamente di trovare colpi di scena omicidi situazioni complicate difficili horror e a me è piaciuto tanto ambientarlo proprio ad Ostuni non soltanto per l'amore grande che ho per questa città ma proprio per evidenziare che un luogo così bello uno dei luoghi più belli al mondo caratterizzato appunto dal candore delle sue case del suo centro storico è una dichiarazione d'amore proprio è una dichiarazione d'amore della città bianca la sua sì sì assolutamente una dichiarazione d'amore ma del resto insomma quando ci si innamora è così si va a dritti per la propria strada e io mi sono innamorato di Ostuni ahimè nel 1987 perché Ostuni è stato il mio primo reparto io appena uscito dall'Accademia della Guardia di Finanza fui destinato ad Ostuni e da allora è stato assolutamente amore a prima vista al punto tale che insomma posso definirmi un fedele da questo punto di vista perché veramente ho cullato per quasi 40 anni il desiderio di venire a vivere ecco Anna tu che conosci meglio di me la zona all'epoca forse nemmeno facilissima per le fiamme gialle no mi limito a questo perché poi parliamo di questo bel libro e anzi andrei subito proprio all'incipit all'episodio che fa partire ti rispondo però sì un territorio non facilissimo all'epoca al pari di tutto il territorio della provincia di Brindisi che però anche grazie soprattutto grazie all'intervento delle forze dell'ordine ha cambiato volto negli anni e quindi ha consentito anche a chi lo ha curato ecco perché voi lo avete curato poi di trovare il proprio posto del cuore certo certo mi permetto di dire anche in risposta alla sua domanda sì quegli erano gli anni che iniziavano ad essere veramente difficili il contrabbando iniziava a cambiare rotta il contrabbando di sigaretta ovviamente iniziava a cambiare rotta e a diventare un po' più cattivo difficile anche da gestire da un punto di vista investigativo al punto tale che poi tutto sfociò nella famosa operazione primavera che poi portò insomma anche ad una radicale fine del fenomeno del contrabbando ecco tornando al suo thriller c'è questo aspetto che mi ha colpito dicevo la narrazione parte da un vecchio usuraio che si ritrova con un riccio di mare pensate un po' conficcato in gola questo è un altro tributo alla nostra gastronomia però da un punto di vista sanguinario diciamo così sì sì sicuramente ci sono alcuni passaggi nel mio thriller che fanno riferimento anche alla bellezza culinaria del nostro territorio mi piaceva l'idea di partire subito perché è una delle scene iniziali del libro di partire subito con qualcosa di veramente cruento ed ho pensato al riccio che tra l'altro insomma io gusto come penso tutti quanti voi con piacere e ho cercato ecco di immaginare questa scena di questo riccio conficcato in gola in gola ad un usuraio che è uno dei protagonisti negativi ovviamente del mio libro che ho voluto inserire anche ecco con riferimento a quanto dicevamo poco fa sul contrabbando anche l'usura l'usura è uno dei fenomeni delittuosi più gravi più difficili più brutti io ho lavorato tanto nel settore dell'usura e ecco traducendo tutto in un libro mi piaceva anche che ci fosse questo aspetto quindi l'usuraio è per me la figura da un punto di vista criminale più bieca più assurda più cattiva e mi piaceva che uno dei protagonisti negativi purtroppo facesse una fine pessima non proprio felice non è semplicissima da maturare anche come idea quella di un riccio conficcato in gola insomma è un'immagine molto molto particolare stavi dicendo confiscato ma non è tutto sommato sbagliato insomma mi siamo nello stesso tema mi sono calata nella parte uno dei personaggi più negativi quali sono gli altri e poi quali sono quelli positivi sì allora il personaggio principale è il classico commissario classico commissario che troviamo in tutti i gialli il mio è il commissario Vito Berlingeri assoluto protagonista di questo mio thriller sicuramente un personaggio positivo perché è assolutamente un tutore della legalità poco fa voi avete ospitato il procuratore della Repubblica di Brindisi avete parlato di legalità e quindi mi sento di dire che coloro i quali dirigono un ufficio di polizia commissari ufficiali della guardia di finanza ufficiali dei carabinieri ma anche sotto ufficiali di tutte le forze di polizia sono assolutamente il presidio della legalità ecco il mio è sicuramente un personaggio positivo anche se all'inizio a Naspa perché ci sono quattro casi intrecciati quattro omicidi leggevo qualche pagina non ho avuto modo di leggerlo tutto però mi piace anche questa ammissione quasi di umiltà per dire anche noi investigatori all'inizio magari abbiamo delle difficoltà poi però imbocchiamo la strada giusta mi sembra di capire sì anzi la ringrazio di questa osservazione perché era esattamente questo il fine che io volevo dare al mio personaggio cioè non soltanto una persona anzi non esclusivamente una persona assolutamente infallibile perché nessuno di noi io ho fatto questo mestiere per 40 anni e i momenti di difficoltà credo che siano stati tantissimi quasi quotidiani quindi non gli volevo dare quella parvenza di infallibilità gli volevo dare invece la parvenza di un uomo debole come tanti altri che all'inizio del 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 caso si è effettivamente trovato in difficoltà del resto quattro omicidi in cinque giorni ad Ostuni ovviamente non si erano mai visti per cui lui stesso non riusciva a capire da dove da dove incominciare fino al giorno in cui i suoi occhi scoprono che mai avrebbero immaginato di vedere esatto e questo questo purtroppo non posso svelarlo perché è poi il ci stiamo appassionando quindi volevamo saperlo anche noi leggeremo il libro invitiamo anche chi ci ascolta a leggerlo ecco e poi c'è un altro aspetto interessante che questo l'abbiamo citato con Anna prima che curiosamente come me che l'ha chiesto un napoletano che si innamora di Ostuni ma allo stesso tempo aggiungo un terzo aspetto Anna quando ci troviamo in qualche conferenza stampa con procuratori con PM giudici eccetera ci capita spesso di sentire che nonostante i mezzi ormai assolutamente moderni e tecnologici il fiuto umano è quello che a volte fa la differenza questo un po' lo ha inserito lei anche nel libro sì sì esatto anche nel mio thriller c'è qualcosa del genere nel senso che e anche questo ovviamente non ve lo posso svelare però in un'epoca in cui le indagini sotto tutti i punti di vista quindi non soltanto le indagini finanziarie che conduce la guardia di finanza ma anche indagini ecco con riferimento ad omicidio o altri fenomeni delittuosi possono essere risolti con mezzi tecnologici di altissima avanguardia ecco nel mio thriller a un certo punto è sufficiente una piccola cosa che non ha assolutamente nulla a che fare con intercettazioni telefoniche microspie quant'altro ma una piccola cosa che devo dire la verità ricorda anche un po' il passato cioè ricorda quello che un investigatore ahimè dico della mia generazione faceva per partire in un'indagine e magari anche arrivare a scoprire e questo nel mio libro c'è tra quello che i metodi tradizionali Anna si dice nei mattinali eccetera che diceva appunto al quale faceva riferimento Gianmarco il fiuto dell'investigatore e poi dall'altra parte invece la tecnologia volendo fare un parallelismo con quello che è accaduto sul nostro territorio ricordo che il caso Melissa Bassi a proposito di indagini fu un caso che diete una svolta positiva in termini di indagini con il supporto della tecnologia è vero generale? Sì assolutamente sì io faccio parte di quella categoria e non potrei ovviamente fare altrimenti di quella categoria in virtù della quale i mezzi tecnologici devono continuare a essere utilizzati anzi con sempre maggiore avanguardia del resto insomma i risultati da questo punto di vista le forze di polizia li hanno ottenuti ripeto faccio parte però anche di una generazione per cui ecco il fiuto come diceva lei l'intuizione stare lì per ore a pensare a un qualcosa però è ancora molto bello e devo dire che è uno dei lati ancora molto affascinanti del nostro lavoro Oggi si sente più generale o scrittore? Allora oggi mi sento assolutamente una persona appagata perché ho e sto realizzando tutti e gran parte dei miei desideri tra cui anche quello di scrivere un thriller ho realizzato il desiderio di venire a vivere ad Ostuni continuo a sentirmi un generale della guardia di finanza anche se in pensione però faccio talmente tante cose tra cui anche un'esperienza bellissima con il teatro per cui devo dire la verità adesso la mia mente è talmente occupata da tutte queste cose extra lavorative per cui sono assolutamente appagato Non hai il tempo di pensare alla pensione poi in verità facendo due conti fra libri eccetera e chiedo subito se scriverà un altro libro in animo o qualcosa di diverso magari Grazie ne approfitto anzi approfitto anche della vostra graditissima ospitalità io sto scrivendo e sono quasi in fase di conclusione il sequel di Ostuni un'insospettabile presenza che termina con un punto interrogativo sto scrivendo il sequel che spero e mi auguro potrà uscire entro la fine dell'anno e quindi essere pubblicato dalla mia casa editrice quindi è quasi pronto è quasi pronto e quindi ci sarà sempre il commissario Berlingeri ci saranno alcuni personaggi già trovati nel primo però spero di finire entro l'anno e quindi ci diamo appuntamento al prossimo anno all'inizio del prossimo anno che dici Marco l'aspettiamo con il nuovo libro grazie noi intanto finiamo di leggere questo perché sono onesto ho detto qualcosa ma non tutto magari aspettiamo la fine intanto questo lo trovano su tutte le piattaforme digitali sì assolutamente su tutte le piattaforme digitali oppure in libreria grazie a voi grazie a voi grazie a Luigi Del Vecchio generale e scrittora grazie grazie Gianmarco ci vediamo domani eh sì appuntamento alle 9.30 con tanti tanti argomenti chiaramente qualcosina oggi c'è sfuggito ma lo sapete quando si è in diretta quando c'è tanto da proporvi ma non vi preoccupate come dico sempre c'è la puntata di domani non vi resta di guardarci domani recuperiamo tutto grazie ai nostri telespettatori ai quali va il nostro saluto con l'augurio di una buona giornata arrivederci woohoo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti